ciao a tutti e benvenuti su semplina viki allora come prima cosa non guardate la mia faccia sono le nove di sera ho appena finito di cenare eccetera sono stanchissima e stavo quasi andando a dormire sono in pigiama quindi non sono sicuramente il massimo della forma né il massimo della presenza ci tenevo però a fare questo video e a metterlo online direttamente stasera perché ormai mancano pochissimi giorni a uno degli eventi che forse è la fiera più importante per quel che riguarda il settore del beauty che è il cosmoprof il cosmoprof che si terrà a bologna dal 7 al 10 marzo moltissime fra voi mi hanno chiesto se quest'anno io andrò al cosmoprof la risposta è sì io sarò presente andrò però in giornata quindi sarò presente un unico giorno che è sabato 9 marzo per chi fra voi volesse venire allora io sicuramente non sono la persona più adatta per dare tantissime informazioni in merito alla fiera perché questa è la prima volta che vado anch'io in assoluto non sono mai riuscita a organizzarmi gli altri anni con i bambini che erano troppo piccoli per riuscire a partecipare quindi non so dirvi nulla di più di quello che potete leggere sul sito del cosmoprof vero e proprio però vi linko sia qui se riesco nel video che anche sotto nel box informazioni due dei video dei ragazzi che sono due youtuber che conosco che sono alice di alice laicodri e marci che sono sicuramente molto più esperti di me alice so che ho già partecipato l'anno scorso e marci è già nato veramente tantissime volte so che ha fatto un video anche con molte informazioni utili e che tra l'altro approfitto l'occasione per salutare entrambi sono sicura che ci vedremo lì in fiera perlomeno con alice di sicuro con marci spero di riuscire a beccarlo in qualche modo per salutarlo non vado con nessuna azienda quindi andrò da visitatrice normalissima esattamente come moltissime fra voi che hanno deciso di partecipare e quindi arriverò credo verso metà mattinata e riparterò poi la sera verso l'ora di cena probabilmente però ho pensato che poteva essere anche un'occasione molto carina e simpatica per chi fra voi sarà lì per visitare la fiera insieme andare a scoprire dei prodotti e conoscerci e chiacchierare anche per quelle fra voi che magari sono di quella zona e che quindi sicuramente faranno un salto all'evento tra l'altro ho scoperto che fra gli espositori c'è anche BB Cream Italia che è un sito di cui credo di avervi parlato sul canale veramente tantissime volte in tantissime occasioni diverse per tantissimi prodotti che ho preso da loro e con cui mi trovo magnificamente come ad esempio il BB Cream ma anche NYX eccetera eccetera e quindi in questi giorni ho avuto occasione di scambiare qualche mail con Barbara la ragazza di BB Cream Italia che tra l'altro è un'appassionata svegatata di make up e beauty e ha tra l'altro scoperto che è anche iscritta al mio canale che mi segue e quindi saluto tantissimo a cui mando veramente un abbraccio enorme anche perché Barbara è stata veramente carinissima mi ha dato veramente un sacco di informazioni utili e soprattutto mi ha messo a disposizione anche 20 codici sconto per voi ragazze che volete venire al Cosboprof per poter comprare il biglietto online a un prezzo agevolato questo è uno dei consigli sicuramente che vi do e che ci tengo a ripetere anche se so che appunto il video che vi ho lasciato da linkare già lo dicono il prezzo per entrare in fiera se voi comprate il biglietto mentre siete lì è 40 euro quindi abbastanza caro mentre se lo acquistate online e quindi è il consiglio che vi do sicuramente di acquistare e comprare i biglietti prima tramite il sito ufficiale del Cosmoprof come vi dicevo il prezzo è di 23 euro online quindi c'è un risparmio decisamente notevole con i codici che lei mi ha dato a disposizione purtroppo ne ho solamente 20 è possibile acquistare il biglietto a 18 euro quindi il risparmio è veramente veramente tanto perché è meno della metà ovviamente non ho voluto metterli qui sotto nel box informazioni perché voglio essere certa che vengano utilizzati dalle persone che effettivamente verranno al Cosmoprof però sono per voi e quindi se voleste venire appunto in fiera e aveste bisogno di un codice per pagare il biglietto meno scrivetemi pure una mail a simplinabiki.gmail.com e io appunto vi risponderò dandovi il codice di utilizzare sul sito del Cosmoprof per comprare il biglietto a 18 euro sempre chiacchierando con lei poi come vi dicevo è stata disponibilissima è proprio appassionata e mi segue veramente in maniera sfegatata perché quando ho saputo che sarei venuta anche io al Cosmoprof nella giornata di sabato oltre a darmi i codici sconto si è offerta di organizzare un piccolo aperitivo per le persone che saranno lì al Cosmoprof con noi che hanno voglia di venirmi a conoscere e chiacchierare proprio perché come le dicevo per me potrebbe essere un'occasione non solo per scoprire le novità di mercato ma anche per conoscere qualcuna fra voi che so che sarà lì quindi se vi fa piacere non so ancora che ora ve lo scriverò qui sotto nel box informazioni tra stasera e domani perché appunto come vi dicevo è un'idea che abbiamo buttato lì veramente all'ultimo minuto e quindi ci stiamo ancora organizzando anche sull'orario, devo capire quando crea anche meno disturbo a loro o quando è più comodo organizzarlo, io pensavo subito prima di pranzo e subito dopo ma vi lascio qui sotto nel box informazioni troverete tutti i dettagli di dove sono e l'ora dell'incontro vi aspetto per un piccolo aperitivo e per conoscerci quindi allo stand BB Cream Italia che è nel padiglione 34 allo stand G25 spero di ricordarmelo bene perché lo sto dicendo a memoria dopo averlo letto nella mail ma vi lascio come sempre qui sotto tutto nel box informazioni ringrazio ancora per la bella occasione anche Barbara di BB Cream Italia che a questo punto non vedo l'ora di conoscere e andare a salutare sabato in fiera nel frattempo saluto tutte quante voi e se vi bacio ci vediamo al prossimo video, ciao!